e concludiamo cari amici di Angoli questa lunga settimana che abbiamo trascorso insieme con un nuovo appuntamento con Confartigianato Como. Il tema che andremo a trattare con i nostri ospiti è sicuramente di grande attualità ovvero la difficoltà per le imprese artigiane nel trovare mano d'opera qualificata. Naturalmente andremo ad approfondire l'argomento con gli ospiti che ci hanno raggiunti in studio. Saluto e ringrazio il presidente di Confartigianato Imprese Como Roberto Galli. Grazie, buonasera. Ben ritrovato, grazie. Do il benvenuto alla presidente provinciale categoria ferro di Confartigianato Imprese Como Barbara Ramaioli. Grazie Barbara per essere con noi, ben arrivata. E saluto e ringrazio anche il vicepresidente di Confartigianato Imprese Como, Alessandro Angeloni. Buonasera, ben trovati. Grazie a tutti voi. Quindi, come ho detto, presidente, naturalmente parto da lei. Il tema in realtà è spesso dibattuto, spesso osservato, anche sembra di fatto, come dire, un po' una contraddizione perché c'è bisogno di lavorare, però in realtà si cercano delle figure professionali. Nello stesso tempo si fa fatica a volte a rintracciarle. Questa è una problematica di cui soffrono anche le imprese del nostro territorio? Certo. È una problematica che soffrono le imprese di tutta Italia e soprattutto del nostro territorio. È l'argomento dell'anno, è l'argomento del momento, la formazione, la mancanza di mano d'opera. È un po' la grossa difficoltà che tutte le imprese hanno, soprattutto quelle artigiane. Noi da diverso tempo stiamo cercando di organizzarci e capire come è meglio fare ad affrontare questa problematica. Il controsenso, come giustamente dicevi tu, è che in un momento in cui il lavoro si è assestato, quindi dopo il periodo Covid siamo riusciti a trovare un equilibrio di lavoro e di sostenibilità delle nostre aziende, quello che manca è la mano d'opera, la mano d'opera specializzata all'interno delle nostre imprese. Ma come mai? Dal vostro osservatorio avete sicuramente cercato di dare delle spiegazioni, anche magari poi per trovare la strada giusta da percorrere. Come mai questo fenomeno? Beh, forse è una spiegazione che mi sono data io, confrontandomi anche con altri presidenti, sempre di confartigianato di Lombardia. È un po' un rettaggio del passato. Noi genitori, fondamentalmente con i nostri figli, abbiamo cercato studia, perché studiare alla fine ti fa vivere meglio la vita, affrontare meglio le problematiche. È veramente così? No, secondo me no. A ragione veduta non è così. Non sempre, almeno. Non sempre è così. Certo. La realtà è che avendo spinto probabilmente i nostri figli a studiare, adesso ci troviamo con una mancanza di mano d'opera effettivamente qualificata in tutti i settori. Non c'è un settore in particolare che necessita più dell'altro. Tutti i settori hanno carenze. Quindi è una situazione un po' condivisa. Andiamo da Barbara Ramaioli, che come ho detto in introduzione, è presidente provinciale, categoria ferro, confartigianato imprese como. Quindi Barbara, anche nell'ambiente, diciamo che direttamente di sua competenza, quindi la carpenteria metallica, effettivamente emerge questa problematica. Quindi c'è bisogno magari di lavoratori specializzati, addetti a particolari mansioni e non si trovano? Che accade? È vero, è vero. Come in tutti i settori di produzione è difficile trovare mano d'opera specializzata. I fattori sono di diverso genere, possono essere più trasversali come per tutti i settori, come ad esempio il calo demografico, il fatto che ci sono tantissimi giovani che sono inattivi. Leggevo recentemente dal report realizzato da Confartigianato Nazionale che circa 1.500.000 giovani non si offrono al mondo del lavoro. E questo è un dato significativo, anche preoccupante. Sì, sì, sì. E si sta anche intensificando il fenomeno del mismatch, cioè non c'è incontro tra domanda e offerta di lavoro. Perché in realtà, andando ad approfondire proprio questo aspetto, quindi parlando del suo settore carpenteria metallica, il lavoratore specializzato che cosa in particolare deve saper fare? Ecco, chi si cerca? Quale tipo di professionalità? Quale tipo di capacità? Allora, la figura che noi cerchiamo è una persona con diverse competenze, perché nelle nostre attività si realizza un manufatto da nulla, da una semplice barra di ferro al prodotto finito. E ci siamo resi conto che effettivamente c'è anche una condizione sociale per cui venire a fare il fabbro viene considerato un lavoro di meno pregio rispetto a altre attività, quando in realtà nelle nostre attività c'è all'interno molta tecnologia e innovazione. Certo, è ancora un lavoro manuale, ma comunque bisogna avere competenze, preparazione, non si può fare senza saperlo. E quindi torniamo un po' anche a quello che diceva lei, Presidente. Magari pensare che lo studio, un certo percorso, è più valorizzante a livello personale, invece magari intraprendere proprio un cammino professionale, poi a seconda di quello che si va a fare, a volte lo si considera di meno pregio, invece è un errore. È un errore, è un grossissimo errore. Bisogna partire dal concetto che il mondo dell'artigianato è cambiato, non è più il mondo artigianale di una volta dove si lavora, si lavora, si lavora, senza magari utilizzare un qualcosa di particolarmente costruttivo e distruttivo. Quindi, essendo cambiato questo mondo, si necessita di professionalità, professionalità che speriamo di recuperare nel mondo della scuola, in un altro tipo di scuola, non in una scuola professionale, non in una scuola come sono sempre stati i licevi. Certo, quindi bisogna anche partire un po' dalla base. E poi vado dal Vice Presidente, Alessandro Angelone, per affrontare un altro degli aspetti che sicuramente danno un certo peso al cammino delle imprese artigiane, cioè il cambio generazionale. E qui apriamo un altro capitolo, la vedo già sorridere. Apriamo un altro capitolo, difficilmente irrisolvibile, perché se ci manca la mano d'opera a monte, mancheranno anche i successori delle nostre attività. La cosa che mi sento di dire è che per onestà va anche detto che la vicina Svizzera, con le sue offerte anche economiche, poi bisogna vedere sulla carta, almeno sono economiche, sono molte appetitose e pertanto non aiuta a colmare questa problematica. Quindi da un punto di vista territoriale qui c'è anche questa problematica, oltre a quelle che abbiamo già discusso. Noi la viviamo molto di più di tanti altri territori, visto che siamo al confine, viviamo sulla nostra pelle giovani che si formano e poi scappano via di là perché comunque hanno una vita diversa. Non è in discesa con la vita, perché bisogna alzarsi presto, arrivare puntuali. Non ci sono molte difese, almeno così raccontano, io non voglio passare per un esperto. Quello che invece facciamo noi, proprio per colmare questo divaro, lo accennava il Presidente, è collaborare in modo più stretto con le scuole, con le scuole professionali, affinché si possa ridurre, per quanto è possibile, modellare quello che è il programma scolastico e portarlo il più vicino possibile alle nostre imprese. Io conosco alcuni colleghi che addirittura donano una parte del loro tempo, a livello di docenza, facendo delle ore in laboratorio per cercare di avvicinare anche sia al programma scolastico, ma soprattutto alle reali esigenze delle nostre imprese. Io rappresento l'autoriparazione e quello è un mondo completamente complesso e difficile da gestire, quindi ci vogliono figure altamente professionali. Lì non manca la tecnologia? Assolutamente no, infatti è un lavoro accattivante. Io dico sempre, non ci si annoia mai, perché ogni macchina ha un difetto diverso. Quindi apro il cofono, devo sapere. Quindi è un problema, ma è anche una fortuna, perché ogni volta c'è qualche cosa di nuovo da scoprire. Le assicuro, Dolores, che è veramente molto affascinante. E poi anche gratificante il poter risolvere alcune problematiche che per altri invece sono insormontabili. Se posso un piccolo suggerimento poi e chiudo. Mi sento di dire ai giovani di oggi, ai genitori di questi giovani, avvicinati dal mondo artigiano. L'artigiano è colui che con le proprie mani, con la propria sapienza, con la propria capacità e maestria risolve le problematiche quotidiane di ogni cittadino e comunque dà un contributo tangibile al territorio in cui opera. Per non parlare di un altro aspetto che è quello ambientale, noi ripariamo, restauriamo, ricicliamo, non buttiamo via niente. Quindi diamo una seconda chance a tutti i prodotti su cui mettiamo le mani. E questa cosa qua è anche un rispetto nei confronti dell'economia e delle famiglie, ma anche nel rispetto dell'ambiente. Siamo un po', siamo intesi artigiani, poi mio padre era un artigiano, quindi io sono della vostra categoria e conosco bene. Siamo anche un po' la storia della nostra Italia, no? Che dice? È d'accordo? Ma sì, ma vabbè. Soprattutto la storia. Siamo la storia, abbiamo creato il paese, non c'era più niente, dopo guerra non c'era più nulla, abbiamo costruito un paese. Quindi abbiamo le capacità, le competenze e la genialità di costruire cose egregie, parlando in tutti i settori, dal tessi alla moda. Cioè, creiamo, siamo invidiati da tutto il mondo e i nostri giovani non si avvicinano al nostro mondo perché sembra faticoso. Quindi la strategia quale deve essere? Quella di partire proprio dalle scuole, dall'educazione? È d'accordo? Avvicinarsi alle scuole in primis, ma convincere anche i genitori che non si può tutti essere dei medici, degli avvocati, dei commercialisti. Perché esiste per quei signori, quelle figure, hanno bisogno anche di qualche di un altro che gli ripara una lampadina o gli ripara una macchina. E soprattutto. Barbara, da donna, voglio sentire la sua voce. Secondo lei la strategia qual è per arrivare, per esempio, ai genitori che ci stanno ascoltando? Venire a conoscere quali sono le nostre attività. Perché noi non avendo un percorso formativo non siamo visibili agli occhi dei giovani. Noi apriamo le nostre porte per far conoscere quali sono le opportunità, perché sia la possibilità di crescita professionale e anche un buon riconoscimento economico. Presidente, siamo in chiusa e poi diamo la linea all'informazione. Perché non snobbare il mondo dell'artigianato? Beh, un accenno l'hanno già fatto i miei due colleghi. Ma sicuramente perché il mondo dell'artigianato, il mondo del lavoro è cambiato. Non siamo più, come dicevo prima, dei grandi lavoratori. È un mondo molto vicino al mondo industriale. Abbiamo welfare, abbiamo sostenibilità, abbiamo aziende che sono pulite. È un ambiente familiare che non è poca cosa. È un ambiente che ti sa costruire e preparare per il futuro. Quindi perché non provare questo tipo di avventura? Il lavoro senza fatica non esiste, a prescindere. Quindi un po' di fatica, un po' di passione, un po' di buona volontà. Venire in confartigianato che magari aiutiamo a percorrere questo percorso. E perché non provare? Forza ragazzi, ci siamo, dai. Ottimo invito. Grazie a Roberto Galli, a Barbara Ramaioli, ad Alessandro Angelone, a confartigianato Como tutta. Grazie davvero e approfitto anche per gli auguri di Buona Pasqua a tutti voi. Grazie. Ci aggiungiamo i tuoi auguri. Buona Pasqua a tutti, a tutti gli artigiani. Grazie. Grazie anche a voi che mi avete seguito in questa lunga settimana ad Angoli. Naturalmente, come sempre, vi ringrazio. Vi rinnovo gli auguri di Buona Pasqua che più volte vi abbiamo fatto in queste giornate. Naturalmente, io sarò con voi anche lunedì, ma prima vi ricordo la mail a angoli.chiocciolaespansionetv.it che sarà sempre a vostra disposizione. Come dicevo, anche lunedì, Pasquetta, giornata di festa, la trascorrerò con voi. Grazie e tra poco la linea ai colleghi dell'informazione. Grazie.